Migliaia di persone hanno marciato a Madrid e in altre città europee per protestare contro le misure di austerità e quella che chiamano la dittatura della Troica, ovvero di Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea. In Spagna il numero dei disoccupati ha raggiunto la soglia record dei 6 milioni. Un terzo di questi non lavora da più di due anni. Abbiamo il più alto tasso di disoccupazione in Europa e questo governo non fa niente, dice una manifestante. Al contrario, la riforma del mercato del lavoro, invece di incoraggiare la creazione di nuovi posti, aiuta gli imprenditori a licenziare la gente. A Lisbona una parte del corteo ha intonato la grandola Villa Morena, canzone simbolo della liberazione dalla dittatura fascista in Portogallo. Vogliamo che il governo si dimetta, la colpa è del nostro presidente che dovrebbe mandarli a casa perché stanno lavorando male e ci stanno riducendo in miseria, dice una dimostrante. Giovedì l'esecutivo portoghese ha annunciato un nuovo piano di austerità dopo che la Corte Costituzionale aveva bocciato alcune delle precedenti misure.